Oh, hai saputo che ieri hanno arrestato Luigi, il meccanico del paese, per traffico di droga? L'ho saputo. Ero cliente suo da cinque anni e mica lo sapevo che faceva il meccanico. Una persona così rispettabile. E chi se lo aspettava che faceva il meccanico? Speriamo che non hanno arrestato il barrista. Oh, dove sta? Prendo! Ehi, e fissi del fatto! Prendo!